buongiorno a tutti oggi siamo in compagnia di un grande esperto italiano fabrizio bandini che si occupa da molti anni di tradizione indoeuropea di simbologia e in particolar modo della spiritualità e della tradizione spirituale nordica fabrizio oltre che essere un esperto di questo tema estremamente affascinante e anche il creatore e il direttore di una casa editrice che ha sede a perugia che si chiama midgat e oltretutto è un lui stesso uno scrittore un saggista quindi è un uomo a tutto tondo un esperto e anche qualcuno che oltre che studiare e leggere anche uno che appunto su questi termini ha scritto e ha scritto diffusamente allora con lui oggi parleremo proprio di un tema estremamente delicato e direi enormemente affascinante che il tema delle rune quindi di questa antico alfabeto che riguarda soprattutto ci spiegherà in dettaglio ovviamente fabrizio le popolazioni nordiche in particolare la zona scandinava che però non è semplicemente un'utilizzazione delle delle lettere dell'alfabeto con degli scopi comunicativi ma invece qualcosa di ben altro che invece riveste la sfera del sacro e soprattutto la dimensione della divinazione quindi in che modo delle lettere diventano degli strumenti per conoscere il futuro per conoscere il destino e come ci spiegherà sempre il nostro fabrizio anche per conoscere se stessi quindi partiamo subito grazie fabrizio per intervenire in questo grazie a te per l'invito in questo nostro canale allora ovviamente volevo te perché non conosco in italia persone diciamo più competenti su su questi temi e non solo dal punto di vista teorico io ci terrei a precisarlo anche se a passante ma perché tu stesso sei un praticante di queste di queste tradizioni quindi c'è questo doppio aspetto qualcuno che studia ma che nello stesso tempo invece a mani e piedi dentro questa tradizione la pratica la pratica come so con assoluta discrezione assoluto rispetto quindi secondo me se la persona più adatta per parlare di questo tema quindi se noi dovessimo spiegare alle persone che ci stanno seguendo in questo momento cosa sono le rune come nascono e qual è il loro significato di base va bene grazie ancora per l'invito martino sì io devo dire subito che il mio approccio runico ormai risale a 25 anni fa quindi ho iniziato cioè la prima volta che mi sono trovato davanti una runa era un libro era 25 anni fa e e da allora lo studiate e lo praticate e le pratico tuttora insomma ecco il allora per spiegare cosa sono le rune io partirei con un binario doppio da un lato si possono vedere come degli oggetti metafisici quindi vi parlerò prima a livello metafisico ed esoterico su cosa sono e poi vi dirò a livello storico come si sono sviluppate a livello metafisico per la c'è quella tradizione nordica sono dei veri e propri enti metafisici sono le stesse essenze di cui è formato il cosmo in cui noi tutti noi e gli altri esseri vivono e quindi sono delle veri e propri enti metafisici che hanno che appunto rappresentano delle essenze del cosmo per farla breve nella nella tradizione nordica all'inizio c'è un vuoto un cosiddetto vuoto che pieno però di cose magiche e di e di energie e da questo vuoto viene fuori la creazione quella che in realtà è più una formazione nel mondo perché cioè non è una creazione come si intende nel senso cristiano che c'è l'ente dio che crea ma è un c'è un venir fuori da questo vuoto da questo è più un emanazione quindi c'è più un'idea come una dimensione germinale primordiale da cui poi sboccia spontaneamente l'insieme dei fenomeni certo tutti i fenomeni quindi anche gli enti metafisici i primi esseri che sono la vacca cosmica e gigante imir e così anche le stesse rune vengono fuori da questo da questo vuoto vuoto cosmico che pieno di forze magiche e spirituali questo in senso metafisico in senso storico invece le rune appaiono in epoca diciamo hanno un paio un paio di millenni circa ma anche dire questo è sbagliato perché in realtà le prime forme rudiche e simboliche le troviamo nel nord d'europa e nella scandinavia soprattutto durante l'età cioè l'età del bronzo nordica la cosiddetta età del bronzo nordica che va all'incirca dal 1800 avanti cristo al 500 avanti cristo ci sono tutti questi che c'è queste incisioni nelle varie rocce di forme solari di simboli magici di simboli cultuali e li troviamo già le prime forme delle stesse cioè quelle che poi saranno in seguito rune e quindi hanno un'antichità abbastanza come dire abbastanza forte poi è quello sono sono i ritrovamenti che abbiamo ma forse sono ancora più antiche comunque a livello diciamo d'archeologia le prime attestazioni di forme simboliche runi che abbiamo in questa età del bronzo poi come si è sviluppato l'alfabeto perché poi in realtà le rune bisogna anche chi dice ma chiarire questa cosa non nasce come un alfabeto ma diventa un alfabeto appunto in epoca diciamo in fra il 200 avanti cristo e il 200 dopo cristo queste forme simboliche cultuali magiche vengono poi adattate all'alfabeto e questo qui è molto importante dirlo perché poi c'è la runa come oggetto cultuale come oggetto magico rimarrà poi in seguito anche quando ha la funzione di insomma alfabeto però e cioè non nascono come e come un alfabeto e i popoli germanici nordici quando vengono in contatto con le civiltà del sud in quel periodo che sono già civiltà che hanno già la scrittura mentre invece quelle del nord erano ancora civiltà in cui la cultura tramandata solamente quello che va con l'oralità e quindi non avevano forme scritte ma le forme scritte erano appunto questi segni magici e cultuali ma non era un alfabeto poi diventa invece un alfabeto qui ci sono varie ipotesi che sia stato adattato alla lingua latina a quella greca e soprattutto a quella diciamo del nord italia ad alfabeti del nord italia ecco in quest'epoca che va dal dal 200 avanti cristo al 200 dopo e quindi qui cioè abbiamo il cosiddetto futark quello che se voi fate una ricerca sulle antiche rune salta fuori il futark cioè il futark è diciamo l'alfabeto che viene sviluppato in quel periodo e sono appunto 24 simboli 24 lettere che poi diventeranno ma è anche difficile chiamarle lettere perché effettivamente loro le consideravano sempre più come segni appunto magici e cultuali che però hanno anche la funzione di alfa cioè appunto insomma allora lettera e fra l'altro le iscrizioni più antiche sono spesse volte iscrizioni che abbiamo nelle pietre e oppure in monumenti abbiamo in spade o sono tutte delle formule che sono soprattutto delle formule magiche o comunque form cioè formule che sono sempre legate al culto quindi questo alfabeto è un alfabeto sacro in ogni caso se vogliamo inquadrarlo bene insomma poi dopo con la cristianizzazione come dire le rune perderanno soprattutto la loro funzione ci avremo degli alfabeti medievali però saranno alfabeti piano piano soppiantati perché i cristiani guarderanno sempre con sospetto a queste a questi segni che sono in realtà dei segni assolutamente magici e legati all'antico paganesimo quindi vengono soppiantate per motivi voglio dire no comprensibili insomma ecco per finire l'inquadramento storico il futark antico è quello che ho citato prima con 24 segni e si sviluppa in area germanica in area della scandinavia e poi abbiamo un futark successivo che il cosiddetto futark giovane che si sviluppa poi in norvegia e in svezia in epoca successiva quindi dall'ottavo al settimo secolo circa ed è un futark a 16 segni e invece un futark anglosassone che si sviluppa prima in frisia e poi nel mondo anglosassone e avrà invece fra i 29 e 33 segni quindi ecco il questo è un po l'inquadramento storico l'inquadramento metafisico ne ho parlato prima sono dei sono le essenze del cosmo e quindi essendo delle essenze hanno una funzione stabile fissa e sempiterna in qualche modo ecco molto interessante grazie fabrizio tutto quello che dici quindi mi sembra di capire c'è un doppio registro quindi questa dimensione metafisica dove le rune non sono certamente delle lettere dell'alfabeto sono semplicemente degli elementi seminali potremmo dire forse delle potenze che in un qualche modo stanno in quella dimensione della realtà dove le cose ancora non sono accadute e iniziano ad accadere hanno dentro di sé proprio questa potenza che fa sì che nel momento in cui accadano si manifestino secondo un ordine secondo un'armonia e quant'altro poi come precipitato secondo diciamo queste potenze poi è come se si incarnassero in dei veri e propri segni grafici e poi in epoche successive come tu hai esposto a seconda dei luoghi a seconda dei momenti a seconda eventualmente delle culture con cui poi questi segni hanno impattato si sono organizzati in una modalità riconoscibile però differente quindi più segni meno segni 24 18 eccetera eccetera a questo punto di vista si può dire quindi che le rune sono degli archetipi e mi viene in mente ad esempio quando tu facevi l'esempio del del vuoto primordiale dove come questo grande contenitore tutto era ancora in germe e fermentava pronto a manifestarsi mi ricorda qualcosa con il simbolo della melograna nell'ambito ebraico ma anche nell'ambito caballistico dove c'è appunto la dimensione primordiale assoluta questo in soft che contiene in potenza tutto ma ancora non si è manifestato e nel momento in cui le cose si manifestano guarda caso si manifestano sì come cose ma in primo luogo si manifestano come lettere che poi sono un lettere dell'alfabeto ebraico in maniera simile tu ritrovi temi analoghi nell'induismo nella tradizione tibetana dove il cosmo essenzialmente all'origine una vibrazione poi questa vibrazione si struttura secondo varie lettere che poi sono i suoni seminali di tutto ciò che esiste perché all'origine tutto è suono e poi diventa cose ma sono anche all'origine dei vari suoni articolati quindi delle varie lettere le consonanti o le vocali quindi c'è c'è è una sorta di scia che dal metafisico passa potremmo dire nel mondo fenomenico ed è per questo che c'è una sacralità potente all'interno di questi chiamiamoli segni sì è assolutamente vero infatti alcune scuole esoteriche hanno spesse volte paragonato le rune c'è l'antico futark a 24 segni con l'alfabeto e con i tarocchi anche che invece sono sono a 22 insomma quindi c'è stata questa comparazione è stata fatta a livello esoterico però a parte questo comunque i miti di varie di varie tradizioni spesse volte hanno delle simiglianze quindi sia il discorso del caos del vuoto cosmico all'inizio e così le stesse rune le possiamo vedere in un senso metafisico come dei veri propri archetipi questi archetipi c'è da dire che prima di passare a livello storico il mito il mito io ricordo che non è un raccontino una favola ma era come dire la dottrina esoterica che avevano le tradizioni antiche quindi quello che noi ci arrivato come il mito greco mito nordico semplicemente i racconti che appunto cioè gli antichi sacerdoti gli antichi sapienti di queste civiltà c'è tramandavano e nel mito nordico abbiamo appunto il mito del dio sommo che appunto è il dio odin che si impicca sull'albero cosmico per nove notti e per nove giorni quindi il 9 nell'ambito della tradizione nordica germanica è un numero sacro perché un numero di compiutezza di un ciclo quindi dire che si è impiccato all'albero per nove giorni per nove notti significa che ha compiuto un ciclo e assunto la totalità su di sé quindi ha conosciuto la totalità delle cose del cosmo e conoscendo queste cose appunto dice il poema qui sto citando un poema che appunto è dell'edda antica e che che narra appunto il mito e appunto odin con questa sua impiccagione chiamiamolo così scopre le c'è scopre le 24 rune scopre appunto questi c'è questi archetipi quindi il mito ci racconta che non è che che non è il dio o gli dei che hanno creato questi formi ma l'hanno scoperte ce l'ha scoperto odin con questo rito fra l'altro l'impiccagione sull'albero cosmico idrasil c'è richiama anche dei riti iniziatici in qualche modo che hanno legami anche con varie tradizioni penso all'asia noi c'è gli sciamani quindi l'albero l'albero dello sciamanesimo e così via e e quindi odin poi nella sua bontà è come dire scopre questa forma di sapienza suprema perché sapere e potere nella tradizione nordica chissà anche in mano una potenza quindi diventa il dio che ha più conoscenza e più potenza però nella sua bontà è come dire cede questa conoscenza agli altri dei agli elfi alle varie categorie di esseri che abbiamo appunto nel mondo della ceva dell'appunto tradizione nordica e le dà anche agli uomini quindi arrivano cioè il mito racconta che questi archetipi cioè arrivano agli uomini e poi li ritroveremo in senso storico appunto con i vari petroglifi che dicevo prima no dell'età dell'età del bronzo e così via però il mito ci spiega come sono arrivati agli uomini quindi è il dio supremo che li ha che li ha donati all'uomo quindi mi sembra di capire che c'è quando si parla di una c'è una dimensione sacrale in primo luogo quindi siamo passiamo immediatamente nominandole siamo già in un piano metafisico abbiamo parlato di archetipi ma c'è anche una dimensione iniziatica nel senso che paradossalmente il dio supremo odin non le fabbrica come dici tu ma le scopre e le scopre attraverso un rito di auto iniziazione in cui appunto appeso a questo albero come dicevi tu per nove giorni e novenotti è come se morisse e nel momento in cui rinasce non rinasce allo stesso livello ma rinascia a un livello ancora più alto di quello dove lui stesso è e quindi assorbe entra in contatto con la potenza stessa delle une quindi c'è sacralità c'è iniziazione c'è conoscenza perché l'ha detto nel senso odin poi per questa sua compassione benevolenza incommensurabile ne fa dono alle varie schiere sia umane ma anche dell'entità della natura poi secondo varie varie gerarchie e da questo momento in poi mi sembra di capire che diventa strumento di conoscenza ma anche strumento di divinazione questo mi interessava in che modo c'è questa cerniera la luna diventa le une diventano conoscenza sacra ma anche conoscenza sacra per conoscere il destino e per conoscere il futuro sì allora qui bisogna spiegare innanzitutto che le une poi in senso umano hanno quattro funzioni principali la prima funzione è una funzione magica che è attestata dalle fonti dalle saghe così via dalle stesse ritrovamenti archeologici insomma di queste formule magiche quindi la runa è un elemento magico che può essere utilizzato appunto in forme magiche di vario e di vario insomma genere poi la runa ha una funzione che è appunto legata all'iniziazione quindi al risveglio come lo stesso mito appunto narra cioè il dio si sacrifica infatti dice appunto il testo io ho sacrificato a me stesso quindi è lui che in una forma di auto di auto sacrificio si scopre scopre questa è questa potenza quindi lo stesso praticante runico in qualche modo può usare appunto queste questi segni e queste forme di potenza per per avere una via allora iniziatica e di risveglio personale quindi è un'auto iniziazione una forma di auto risveglio quindi la luna ti apre a una dimensione profonda di più profonda di te stessa di quella che ovviamente riguarda la quotidianità sì 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 è stato sviluppato poi in varie scuole esoteriche fra l'ottocento e il novecento questo discorso iniziatico della visualizzazione della meditazione sulle varie rune è stato sviluppato molto e quindi sono sviluppati proprio dei cammini iniziatici in questo senso e la terza funzione quella sacerdotale quindi in un rito che appunto legato alla forma nordica del paganesimo si posso utilizzare per cioè per il rito stesso e scusa se ti interrompo in questo caso cosa significa quindi che la luna catalizzerebbe la luna diventa un catalizzatore di una potenza sacra che poi viene canalizzata potremmo dire quasi una funzione teurgica del della luna sebbene non ci sia questa luna associata a una personalità divina ma a un sacro è una funzione che è sacerdotale nel senso chi guida il rito può chiamare una data luna in quel momento perché ne ha bisogno lui o i partecipanti se il rito ha più persone quindi può essere canalizzata ed è una funzione che a metà fra il magico e l'iniziatico perché comunque è la però è in un contesto di un rito insomma ecco di un rito è legato alla forma del paganesimo nordico mentre la forma magica si può utilizzare anche in qualche modo per i cavoli propri cioè diciamo così e poi la quarta funzionalità era quella che citavi tu che è la divinazione quindi la divinazione per esempio è attestata già in tacito tacito quando scrive dei germani nel suo famoso testo il de germania che è stato scritto intorno al 98 dopo c'è insomma era corrente dopo insomma cristo e appunto cioè descrive questi sacerdoti dei vari germani che lanciavano questi bastoncini queste forme in legno e lì c'è la prima descrizione di questa pratica che è divinatoria quindi lanciare queste rune scritte c'è scritte meglio dire c'è incise in pezzettini di insomma legno e è una forma che è divinatoria che è già attestata in punto da questo da questo racconto e quindi evidentemente è molto molto insomma antica e poi chiaramente la divinazione nelle forme anche più recenti è stata sono state sempre utilizzate anzi devo dire che nel revival diciamo runico nordico dell'ultimo secolo forse questa pratica divinatoria quella che è più famosa nel senso uno sente cioè parlare allora il discorso runico uno si immagina uguale le rune usate per divinazione ma ecco bisogna dire che poi in realtà hanno più funzionalità che sono appunto queste quattro e la pratica divinatoria è importante soprattutto perché nel mondo nordico germanico il destino ha un ruolo fondamentale nel senso stiamo parlando di una tradizione per cui il destino a larga parte come come gli stessi dei hanno un loro destino tutto ciò che nasce nel cosmo qualsiasi ente individuato a un destino e quindi nel mondo nordico germanico analizzare cosa succede nel cosmo cercare di capire anche il proprio destino in qualche modo in questa vita terrena è sempre stata cosa molto molto importanti e quindi la divinazione nel mondo germanico nordico ha sempre avuto una funzione forse più importante che anche in altre civiltà e quindi l'uso di questi segni magici per la divinazione è appunto attestato dall'antichità ma anche nelle scuole più moderne insomma ecco allora a questo riguardo ti volevo chiedere perché da come sta risponendo mi sembra di capire che quindi l'aspetto divinatorio delle rune è quello per cui la runa permette acqua al consultante quindi a colui che sta facendo la divinazione attraverso le rune di entrare in contatto con una dimensione della realtà e di un intreccio particolare della realtà cioè ti mette in contatto con uno snodo che ti fa capire visto che la realtà è come una sorta di tessuto di tanti fili che appunto creano una trama ti fa capire in quello snodo là dove la persona eventualmente è collocata e dove deve andarsi a collocare se è una cosa che riguarda una domanda tipo cosa devo fare rispetto a è così o mi sto sbagliando esprimendomi no no è così assolutamente martino allora nella tradizione nordica c'è questo concetto che il bird bird sarebbe questo tessuto come appena descritto te che unisce tutti gli enti del cosmo quindi sto parlando sia di enti fisici che di spirituali quindi sono bisogna vederlo questo bird messo su su più piani su più piani sottili o più pesanti insomma chiamiamoli così ora è andare a fare una divinazione runica significa andare entrare in contatto con queste forze che sono delle forze metafisiche come ho descritto all'inizio e quindi entrando in contatto con queste forze metafisiche uno entra in contatto c'è chiaramente con il bird perché chiaramente tutto ciò che esiste è come un grande fiume no è come c'è il tutto scorre quindi noi siamo tutti degli enti che scordiamo in questo fiume ma che anche una stessa allora rete e quando noi compiamo un'azione e questo ci ricorda molto anche il mondo indiano del carman quindi c'è carman inteso in scanna cioè in sanscrito come azione quindi noi quando compiamo un'azione come se andiamo a colpire questa questa allora insomma rete e dal dalla nostra azione si riverbera poi in tutto il cosmo in qualche modo perché la rete è tutta collegata quindi le nostre azioni coinvolgono tutto come un sasso gettato nell'acqua nel senso tutto ciò che noi facciamo crea delle delle onde che si riverberano in ogni direzione attorno è la stessa cosa è la stessa cosa quindi è una concezione che a vedere una sembra una concezione che fatalista vabbè ma questi credono al destino questo fatalismo però è molto complessa nel senso non è non è così semplice da spiegare e quando uno divinizza e tu entri in contatto subito con il bird quindi quella situazione diciamo tua ma anche del cosmo in quel momento quindi come se fai una fotografia del bird in quel momento e tu e qualsiasi domanda poni ti viene data una risposta di quella situazione ora essendo che io tutelare appunto l'ecenso ma l'abbiamo citato prima insomma è allora odin quindi fare fare divinazione significa entrare in contatto anche con le divinità tutelare che sono appunto quelle legate alle stesse ai stessi segni unici insomma quindi uno entra in contatto con più livelli entra in contatto con il bird entra in contatto con il destino entra in contatto anche con le divinità supreme in qualche modo che hanno dato lo stesso odin soprattutto ha dato queste formule magiche ai uomini e gli uomini le possono utilizzare insomma ho capito perfettamente senti tra lezio ascoltandoti che è molto molto interessante la la tua esposizione anche perché articolata tocchi vari punti e secondo me riesce a creare un panorama completo su un tema estremamente difficile ma ascoltandoti e la maniera in cui stavi descrivendo il modo attraverso cui agisce la divinazione nel tuo caso mi viene in mente le forme di divinazione forse la più conosciuta di quelle che riguardano l'asia quindi la la divinazione taoista per eccellenza licking eccetera dove lì essenzialmente c'è questa c'è un parallelismo nel senso si sa suono quindi questa forma di divinazione dove si gettano in genere tre monete e vengono lette si crea un esagramma con delle linee continuano delle linee spezzate le varie combinazioni quindi poi riportano ognuno ad un quadro che poi viene letto e interpretato da colui che fa la consultazione ma anche lì e l'interessante è che di colpo tu ti metti semplicemente in contatto con una disegno armonico in divenire influire come dicevi per come se tu avessi una fotografia cioè la divinazione ti fa come una voce direi dimmi se sbaglio viene questo paragone come le polaroid ti ricordi le macchine fotografiche istantanee la divinazione dice in questo momento slack e esce l'immagine la situazione in te attorno a te è questa ed è un disegno estremamente armonioso che però coinvolge come dicevi tu in maniera molto secondo me giusta vari livelli e varie densità non è un caso che li king in qualche modo è una forma di lineazione dove viene costantemente fatto di fronte al tau quindi la dimensione assoluta delle cose ma in tutte le sue declinazioni fino al nostro vivere quotidiano che è fatto di yin e di yang gli elementi che si combinano si oppongono tra loro ma che non si oppongono mai perché ognuno poi si completa con quello che apparentemente è il proprio opposto però mi sembra di capire che sono tutti dei modi riassumendo questa questa mia diciamo delirio verbale sono degli strumenti molto concreti per mettere istantaneamente in contatto e in connessione il microcosmo umano con il macrocosmo e farci capire se c'è armonia se non c'è armonia ma al di là di questo perché sembrerebbe quasi una connotazione moraleggiante quello che sto dicendo io non è che tu devi fai una divinazione per armonizzarti però per capire qual è il tuo posto rispetto a un ordine che è più grande di te ed è più profondo di te assolutamente vero io fra l'altro li king l'ho un po l'ho un po' praticato anche io quindi so di che stai parlando insomma e hanno molte e molte simiglianze effettivamente il andare a divinare e bisogna farlo ma soprattutto per cose serie insomma non è come si può mettere a divinare su su stupidaggi insomma chiamiamolo così anche perché divinare significa fare un vero e proprio sommarito in cui tu appunto domandi a forze cosmiche chiamiamole così per semplicità qual è la tua situazione se la domanda è comunque come dire parla del consultante qual è la tua situazione in quel momento la quindi va fatto assolutamente con rispetto se uno lo fa con un rituale di un certo tipo perché appunto significa collegare come appena hai detto anche tu il microcosmo con il macrocosmo in senso si potrebbe dire con il midgard il mondo il mondo nordico in cui stanno appunto gli uomini in cui siamo noi che il mondo fisico a tre dimensioni che noi viviamo è il midgard significa collegare il midgard con altre sfere con altre sfere e soprattutto con questo bird che collega tutti i nove i nove mondi e quindi solitamente bisogna farlo io consiglio di farlo per cose serie per chi pratica la divinazione poi un'altra cosa sicuramente allora la divinazione può essere lo studio delle varie rune io per esempio appunto ho appena accennato che 25 anni che le studio poi chiaramente lo ho iniziato a praticare dopo dopo l'ora molto studio e così via quindi se uno per esempio volesse iniziare a praticarle comunque consiglio di studiare i testi principali che sono che sono appunto reperibili ma soprattutto perché la divinazione funzioni bisogna avere comunque anche delle capacità insomma proprio nel senso avere un animo in qualche modo sensibile ed essere in qualche modo già predisposti al al contatto con certe cose quindi lì si ottengono dei risultati come dire insomma buoni però ecco è un cammino che non è per tutti però per per chi lo vuole approfondire abbiamo gli strumenti in quest'epoca per poterlo fare perché comunque si è salvata questa 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 nostra tradizione si è salvata dal ce l'abbiamo qui a disposizione insomma ecco allora vorrei farti un sacco di altre domande però non voglio allargare troppo troppo il campo però ovviamente è una domanda che mi viene così d'amblè da parti allora sappiamo si parla di lune oggi e oggi noi parliamo anche perché sono molte persone che se ne interessano potremmo quasi dire che le lune al giorno d'oggi come tante altre cose sono piuttosto alla moda quindi sono persone come citavamo prima li king la divinazione orientale o qualsiasi altra cosa abbiamo noi la tendenza oggi giorno di trasformare tutto in in moda quindi anche le lune sono particolarmente alla moda poi c'è un po la tendenza new age che cerca in un qualche modo di interessarsi a qualsiasi cosa spesso per il solo gusto di interessarsi alle cose senza guardare poi troppo in profondità quello che mi interessava domandarti visto che c'è molto interesse non chiamiamolo moda chiamiamo molto interesse al giorno d'oggi e molte persone che realmente sarebbero interessate approfondire questo tema quali sono i tuoi consigli diciamo per fare ciò diciamo in maniera corretta in maniera discreta in maniera rispettosa evitando al tempo stesso visto come illustri tu non è una pratica di divinazione è un cammino spirituale quindi c'è un approccio che comprende un rapporto totale della persona con le une non è un momento adesso faccio le une così vedo se l'anno prossimo c'ho un avanzamento nella mia carriera professionale non è quello parli di una sensibilità quindi già ci vuole un approccio di una persona che sia già potremmo dire incamminata verso verso una dimensione che non è prettamente quella delle tre dimensioni altezza lunghezza e profondità quindi che sia già interessata a queste dimensioni ma come poterlo fare se è il caso di farlo io non dico che poi sia una via aperta a tutti e neppure forse una via aperta a nessuno lo so te lo domanda te come esperto sono una persona che ci sicuramente sono delle persone che ci stanno ascoltando mi piace ancora di più sentendo quello che dice fabrizio voglio voglio avvicinarmi come posso farlo ma evitando i rischi perché ovviamente visto che stai parlando di dimensioni sacra ogni contatto con la dimensione sacra se non viene fatto secondo una certa modalità e un protocollo di rispetto che non è poi solo il semplice rispetto morale implica dei rischi si appunto allora stiamo parlando comunque di enti metafisici come ho spiegato prima anche come degli enti che sono degli enti magici veri e propri quindi quando uno entra in un campo che sacrale magico comunque richiamare l'attenzione è la prima cosa perché se no uno rischia di fare danni a se stessi e agli altri in maniera anche qualche volta purtroppo molto molto profonda quindi questa è l'avvertenza cioè iniziale che chiunque si incammini in simili cammini appunto ho usato il cammino la doppia volta ma l è sicuramente l'avvertenza necessaria poi come dicevi tu se viviamo in un'epoca di grande confusione nel senso con la new age che ha un po mischiato tutto che uno può praticare tutto in realtà io appartengo un po alla vecchia scuola quindi questa pratica runica inserita dentro un cammino che è spirituale che è tradizionale e questo è comunque l'approccio che consiglio a tutti quelli che si avvicinano a questo cammino come ho detto prima usare le rune significa entrare inevitabilmente in contatto con il nome che allora odin che le gestisce e con gli dei legati a questa a questa tradizione e quindi l'approccio diciamo tradizionale e spirituale di questo cammino è sicuramente quello assolutamente migliore poi in epoca storica abbiamo avuto appunto le formule uniche che sono state utilizzate anche in altri modi per esempio abbiamo dei manoscritti che sono dei grimori magici nomi che che datano per esempio 500 600 700 quindi già in epoca cristiana che però erano stati in qualche modo salvati no da insomma chiamiamoli così allora maghi del periodo che utilizzavano le forme runiche solamente per magia in un'epoca in cui erano già tutti cristiani e quindi chiaramente la formula c'è insomma runica e la magia runica si può si può utilizzare anche in altri modi però il mio consiglio è di utilizzarla dentro alla tradizione nordica assolutamente e per motivi vari cioè per motivi non solo di completezza del cammino dello spirito perché uno non ha solo un pezzettino ma a tutto il a tutta la tradizione quindi c'è una totalità che di là si può perdere nel senso si perde si perde certamente nel senso e poi di là rischi comunque di entrare in campi assolutamente rischiosi per motivi vari e chi pratica la magia un pollo sanzo è un'altra cosa e le rune in qualche modo chiamano nel senso io da quando sono piccolo che studio cose spirituali cose esoteriche diciamo così cose mitologiche cose simboliche e sono arrivato alle rune dopo dopo aver provato anche altre strade ho fatto moltissime esperienze a livello di spiritualità e se sono arrivato alle rune non è perché a un certo punto dico che belle le rune mi piacciono e perché in qualche modo sono stato chiamato no nel senso mi sono poi imbattuto dopo che l'avevo scoperte a 25 anni mi ci sono imbattute in qualche modo è un cammino che poi mi ha chiamato e ha funzionato mentre invece altri cammini spirituali stavo lì a sforzarmi e dico ma c'è qualcosa che non va questo qua invece è un cammino che per mari motivi che magari non abbiamo il tempo di spiegare con me ha funzionato quindi in qualche modo credo che i cammini spirituali non si scelgono ma si è in qualche modo scelti quindi chi fa dei cammini dello spirito seri sa che è difficile che tu scegli il cammino ma se c'è il cammino che a un certo punto ti chiama cioè in qualche modo quindi ecco chi a chi in qualche modo viene chiamato da questo cammino io lo consiglio comunque di approfondire tutto il discorso della stessa tradizione nordica perché sicuramente è un cammino più completo poiché le rune si possono utilizzare anche in altri modi questo qui è scontato perché qualsiasi segno magico si può utilizzare anche al di fuori qualche modo della della tradizione e del contesto in cui è nato e in cui si è sviluppato insomma allora quello che ha detto adesso è molto molto importante quando dicevi non le cose sono loro che vengono a cercare noi e non noi che dobbiamo andarle a cercare e soprattutto perché è estremamente calzante rispetto a quello che diciamo poc'anzi nell'epoca attuale allora l'epoca attuale dimmi se sei d'accordo o meno fabrizio ma insomma tutto è a nostra disposizione noi possiamo attingere dagli indiani dalle tradizioni degli indigeni americani gli aborigeni australiani gli sciamani l'ayahuasca l'alchimia i tibetani eccetera eccetera però c'è una c'è un'attitudine che è totalmente bulimica cioè noi ci mandiamo dentro ingurgitiamo tutto ma manca e tu l'hai messo secondo me a fuoco in maniera perfetta una cosa fondamentale che è l'ascolto cioè se tu non ti fossi comunque ascoltato non avresti secondo me neppure mai sentito che magari era questo che ti stava chiamando piuttosto che altro ma magari saresti andato avanti ancora come dicevi tu ho fatto abbastanza sperimentazione nel campo spirituale poi qui mi sono fermato probabilmente non ti saresti fermato saresti continuato magari oggi non parleremo di rune ma ti troverei magari a parlare della nuova religione delle delle moto early davidson perché ci può stare anche quello quindi ma non è il caso quindi a un certo punto però ti sei messo in una in un momento di pausa in un momento di ascolto e poi tu hai sentito che era quello che chiamava piuttosto che altro che secondo me è fondamentale perché è una delle qualità importantissime che però mancano al cosiddetto ricercatore di assoluto del giorno d'oggi cioè ricercatore assoluto ricerca c'è una estrema vigore attivo dell'andare l'andare l'andare ma non si concede più il tempo di lasciare a determinate esperienze che si dimentino al suo interno e essenzialmente sentire se quella cosa che sta sperimentando entra realmente risonanza o meno con la sua parte profonda se no penso è tempo perduto ma sì ma anche secondo me anche perché poi se tenti di praticare qualcosa che non è in in armonia con la tua anima è qualcosa che in qualche modo va a fallire nel senso perché poi senti che c'è qualcosa che non funziona pure se tu che ti sforzi invece appunto mettersi in ascolto in queste cose è molto importante e quando uno fa veramente un cammino che dello spirito che è legato profondamente alla propria anima lo senti subito perché non fai quasi sforzo per per fare certe cose ma ti viene naturale come se tu l'avessi sempre fatto da epoche passate quindi veramente è una cosa è un salto di qualità che chi pratica la spiritualità sente subito quando tu trovi il tuo cammino lo senti subito non c'è assolutamente motivo di insomma dubbio di poter no e lo senti subito ecco e quindi la anche la pratica runica in questo cammino dello spirito è sicuramente viene assolutamente meglio c'è un conto è fare e fare la divinazione quando hai tutta una preparazione che spirituale di visualizzazione cioè conosci le rune così perfettamente che se ne evochi mentalmente una certa arriva su dubito nel senso quindi fare una pratica che è divinatoria pure se vuoi fare quella con un fondo spirituale molto forte è una cosa e si ottengono alcuni risultati e invece le improvvisazioni cioè purtroppo sono destinate al fallimento ma questo qui è scontato è scontato senti Fabrizio ti volevo fare un'ultima domanda che riguarda sempre questo aspetto della divinazione e che si collega però a quello che abbiamo appena detto in questo momento allora concretamente mi interesserebbe capire penso che interessi anche una buona parte persone che stanno seguendo come tecnicamente si svolge una una divinazione e sempre sulla base di quello che abbiamo detto conoscendoti abbiamo già parlato altre volte e mi sembra di capire che al di là poi della tecnica stessa è importante anche nel nel momento in cui si fa la divinazione avere anche lì un'attitudine di ascolto di intuizione perché alcuni elementi non è semplicemente che da in maniera meccanica una risposta la runa che esce perché ha quella runa significa così e quindi leggo le cinque righe quindi vuol dire questo c'è anche lì un rapporto empatico ma non empatico a livello superficiale empatico profondo per cui mi sembra di capire che alcune cose quando avviene la divinazione riguardano proprio l'intuizione profonda e anche l'ascolto profondo ti lascio la parola quindi mi interessava la tecnica concreta la più semplice se ci sono modi più elaborati più semplici quindi come avviene e se questo elemento di rapporto profondo tra colui che compie la divinazione e lo strumento di divinazione e il risponso stesso passa poi per un livello che non è esclusivamente tecnico questo qui sicuramente allora sulle tecniche ce ne possono essere varie uno le può gettare vedere come sono uscite oppure si possono estrarre insomma le tecniche sono ce ne sono tante ma non è tanto il problema di tecnica sicuramente chi segue un cammino di questo tipo a un certo punto praticandolo trova la tecnica più confacente alla propria persona perché poi ci sono appunto varie tecniche che trovate anche in alcuni libri e che sono stati scritti da ironologi più importanti che abbiamo nel tempo attuale però insomma ecco a parte la tecnica uno deve cercare qual è la tua tecnica perché a un certo punto quando vai a fare una ricerca di questo tipo devi trovare quella che è più confacente a te trovata quella l'analisi chiaramente compiendo un rituale uno si deve astrarre dal mondo circostante quindi è bene magari praticare anche un pochino di ascolto e di e di astrazione cioè prima di compiere il rituale stesso nel senso magari di non gettarsi in mano al caos quotidiano a fare una cosa simile ci vuole una preparazione insomma in modo di arrivare con un animo quieto e concentrato al fare di al fare la divinazione insomma e a parte questo e le varie rune che escono quando uno fa una pratica simile alcune sono molto chiare nel loro significato altre meno quindi dopo spetta all'intuizione di chi fa la divinazione di capire qual è il messaggio che esce da quella pratica la e questo appunto richiama un'altra volta il mondo dell'antica tradizione nordica quindi bisogna conoscere quali sono i simboli non solo delle rune ma anche dei vari miti che stanno dietro a certe cose e quindi fare un'analisi ben precisa del messaggio perché messaggio che viene sempre dalle sfere superiori io voglio appunto appunto stare qui a ricordare e quindi capire bene qual è il messaggio che ti esce fuori ora poi gli antichi a parte divinare in questo senso avevano una mentalità per cui anche se tu uscivi la mattina sentivi magari un corvo che ti che ti cantava aveva un significato pure quello cioè nel senso chi entra e su una mentalità di un certo tipo sa che gli dei possono mandare messaggi di svariati modi fare la pratica è insomma divinatoria è un modo chiaramente per entrare direttamente in contatto però chi ha una mentalità di un certo tipo direi arcaica riesce a trovare segni anche in cose come il canto di un uccello oppure un ramo che trovi a terra che ha una certa forma che ha una certa forma magari può essere anche una forma cioè richiamante a una stessa allora una e quindi uno può trarre risponsi anche da cose simili che per una che per una mentalità moderna sembra una follia no nel senso che vabbè ma come è possibile però gli antichi ragionavano così insomma ecco c'è un po la declinazione secondo me di basso livello al giorno d'oggi il gioco di vedere ci sono delle coincidenze ma non è semplicemente la coincidenza guarda oggi mentre è successo questo guarda che coincidenza mi sembra che il discorso è un po più ampio nel senso che tutto il mondo e mistero l'universo è interamente misterioso l'universo interamente è fuoriero di messaggi quindi per chi è diciamo con le antenne totalmente aperte come dici tu basta un ciottolo un ramo incontrato mentre si fa una passeggiata a dare un significato in maniera più concentrata ci sono dei sistemi come quello delle rune che in maniera focalizzata come se fosse una lente di ingrandimento portano l'attenzione della persona su un dato specifico per avere una lettura universale di quello che è il momento che sta vivendo appunto in quella data circostanza ci sono modalità diverse ma è la nostra ampiezza interiore di strettezza che forse permette questa lettura e sentire che che l'universo ci parla ogni istante ma non è l'universo materiale appunto da quell'universo più profondo ben più ben più spirituale della materia stessa che da cui le cose nascono e da dove si 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 diffondono poi si è così ma perché noi bisogna fare lo sforzo noi uomini contemporanei che viviamo in una società di stampo materialista scientista di astrarsi da questa visione no semplicemente meccanicista e scientista del cosmo e quindi andare a ritrovare queste forme di pensiero che il freezer classificherebbe in maniera sprezzante come pensiero magico però insomma è questo qui è c'è le antiche tradizioni imponevano una mentalità di questo tipo per accedere a certe pratiche se no non ci accedi neanche nel senso e quindi per chi vuole praticare dei cammini dello spirito c'è bisogna cambiare la mentalità questa è la prima cosa che deve fare un uomo e poi dopo tutto il resto viene nel senso se c'è appunto come detto prima l'animo predisposto è chiaro che se c'è un animo come un'amica mia che ci discutevo tempo fa mi diceva no ma com'è possibile l'astrologia che pianeti che stanno così lontano hanno influenze è chiaro se tu pensi di questa maniera così non non ci non arrivi neanche ad accedere a un tipo di pensiero che è spirituale però questa è l'epoca nostra ma questa è una premessa che va bene che non faccio mai però visto che oggi siamo qui scesi in questi discorsi che poi sono discorsi molto molto importanti e l'uomo contemporaneo se vuole camminare fare un cammino spirituale serio deve innanzitutto buttare via questa mentalità quando riesce ad avere una mentalità vera di un certo tipo poi riuscire ad accedere a cammini spirituali alti dice chiamiamoli così sono perfettamente d'accordo e anche togliersi i vari pregiudizi che esistono quando si nomina la parola magico tu citare giustamente presa magico viene subito qualcosa fuori di strano in ognuno di noi o almeno nella maggior parte di noi mentre semplicemente magico secondo me è quella visione che permette di contemplare simultaneamente il visibile e l'invisibile mentre purtroppo il non magico è quella visione che ha scelto deliberatamente di amputare una parte di questa visione cioè di rimanere con gli occhi sul visibile e di non voler più contemplare che la visione profonda per forza di cose contenta simultaneamente visibile e invisibile assolutamente vero e ma d'altronde come dicono gli indiani viviamo nel calli yuga e quindi ci dobbiamo beccare anche questo questo periodo qua su ebbene allora ne riparleremo magari di questioni che riguardano l'epoca attuali ma rimaniamo su su note altissime eccelse come quelle dove c'hai così gentilmente condotto fabrizio cioè quelle delle rune come precipitato nel mondo materiale del della potenza della bellezza e dello splendore di ciò che invece è divino e quindi grazie infinite davvero fabrizio questo bellissimo incontro di questa panoramica detto panoramica sembra che una cosa superficiale invece tu hai toccato tantissimi temi e su ognuno si è riuscito a dare degli approfondimenti giusti quindi grazie grazie ancora e spero che avremo a breve occasione di rivederci ma io ti ringrazio molto per l'invito e sono stato contento sono stato davvero contento di essere qua contento e quei ascoltatori grazie ancora allora e a presto ciao ciao